Governatore Fedriga, un appuntamento importante per l'economia del Friuli Venezia Giulia con i 60 anni di Chiarcosso. Sì, oltre i 60 anni io penso che sia anche un percorso virtuoso di un'azienda che ha dimostrato che la sostenibilità di cui si parla molto in questi giorni è rappresentata anche da un modello evoluto di rapporto datore di lavoro-lavoratori, dove non c'è più una distanza semplicemente di posizione, ma in realtà è una squadra che lavora insieme e questo ha portato alla crescita dell'azienda dove tutti operano nella stessa direzione con modelli che nascono da diversi anni di cui oggi forse si ipotizza, ma Chiarcosso è stato in grado di anticiparli e essere in grado di far sì che i lavoratori siano partecipi del successo dell'azienda, è successo non a caso arrivato. Presidente Chiarcosso, che cosa c'è bisogno per aziende come la sua dal punto di vista del rilancio economico? Un'attenzione particolare per chi è sulle strade, soprattutto di non avere confusione sulle accise, sui contributi che vengono dati agli investimenti o per meglio dire a quelli che veramente fanno gli investimenti. Noi abbiamo un parco veicolare che il 70% è Euro 6, abbiamo 100 Euro 6, cioè vincenti e pronti ad andare in tutta Europa.